ragazzi oggi un video veloce veloce perché voglio condividere con voi questo momento fantastico siamo venuti a farci un drinchetto qui al fanar vista mare guardate che bello e c'è il ragazzo che ha cominciato a suonare la musica la musica poi mi chiedono perché amo il charme and shake per questi momenti qui fanno dei succhi buonissimi si può anche mangiare video veloce per oggi di the charm ci vediamo alla prossima